L'idea alla base del progetto del Parco delle Morgie che dovrebbe sorgere nella condivisione e collaborazione diretta di tre comuni dell'area di Mediotrigno, Trivento, Salcito e Pietracupa sta nelle aspettative di una rinnovata attenzione turistica e culturale che potrebbe portare ad ottimi riscontri di rilancio, oggi necessario, allo sviluppo economico del territorio. Tutto il Parco delle Morgie riguarda il turismo di comunità, quindi non un singolo operatore, un singolo individuo, ma riguarda tre comunità in questo caso, ovvero quella di Pietracupa, quella di Salcito e quella di Trivento, tutte e tre interessate dalle Morgie. Morgie anche, devo dire, diverse sotto l'aspetto di alcune peculiarità, per esempio la Morgia di Pietracupa è anche quella più famosa perché intorno alla Morgia è stato realizzato l'intero nucleo abitativo, famosa anche per la cripta, per la chiesa madre. Poi c'è la Morgia di Salcito che in realtà è nell'agro di Salcito, una contrada a Pietravalle, dove nel 2009 la sovrintendenza autorizzò a me e il professor Cirino nella ricerca anche dei fossili che noi avevamo rinvenuto, anche perché sono Morgia, almeno quella di Pietravalle, risalente all'era cenozoica, quindi abbiamo ritrovato diversi fossili, soprattutto pectinidi, eccetera, e quindi nel 2009 la sovrintendenza in un documento scritto ci dice che tutti i fossili che noi avevamo anche rinvenuto potevamo tranquillamente depositarli presso il comune di Salcito per progettare in un futuro un museo paleontologico. Poi c'è la Morgia anche di Trivento dove c'è anche già un'area attrezzata picnic, dove ci fanno anche arrampicata, quindi l'idea è quella di unire anche non solo la storia, l'archeologia, perché stiamo parlando anche di un immenso patrimonio archeologico, la paleontologia, sport, quindi arrampicata e poi ovviamente ci sono le strutture ricettive.